bella ciao a tutti ragazzi bella ciao a tutti ragazzi siccome oggi non sapevo che video fare siccome ci sono andato azzucci apre il biscotto lo so che non ha senso vi prego allora lo apri insieme a voi c'è la cazzetta perchè non lo mangio si può dire da un'ora un'ora fa mattina non ti farà vedere è un credito è semplicemente arrabbiata perchè comunque c'è scritto riuscite bene in tutto ah mamma hai capito il biettino è riuscite bene in tutto grazie mi gusto questo biscotto della frutta ragazzi guarda io faccio vedere una cosa che mi ha regalato mia cugina aspetta eh ragazzi lo vedete vabbè non lo vedete vabbè che vi posso dire è buono questo qua pink 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 oh sto facendo pink 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 uffa ma è buono vabbè normale niente ragazzi io vi consiglio ma poi ragazzi commentate sotto a chi vi piace il sushi commentate mi piace il sushi mi sono molto curioso ragazzi faccio una piccola domandina per me per me mi piace però troppo non voglio mangiare voglio mangiare poco se vi devo dire la verità i miei compagni non vi piacciono però una tua compagna si Mario non ti ricordi sono una mia compagna io e poi si dice quella che non sopporti magari quella che non sopporti come si chiama? diana diana ecco ragazzi voi non la conoscete è una compagna di Mario è una compagna di Mario buono e da me e dai e dal biscotto sushi da me e da e da me da sushi ci vediamo in un prossimo video ciao